Il mercato dell'occhialeria è in costante trasformazione, questo quanto emerso da un'analisi condotta dal Centro di Ricerca Local Area Network per conto delle organizzazioni sindacali FEMCA, CISL e FILGTEM, CGL. Il dato fondamentale è che il mercato è in espansione e che nel bellunese ci sono tutti i grandi gruppi mondiali che si confrontano. I dati del 2017 sono dati che hanno destato una forte attenzione anche sindacale in quanto mostrano alcuni segni di ristrutturazioni profonde che riguardano una diminuzione del saldo fra assunzioni e cessazioni del 2017 rispetto al 2016. Passiamo da circa 1000 valori positivi a circa 200 persone. Riguardano la brevità dei rapporti di lavoro, c'è una piccolissima diminuzione anche del valore assoluto delle esportazioni che scendono di alcuni milioni di Euro. C'è anche una piccola impennata della cassa integrazione, siamo tornati sul 1.700.000 ore, un valore che sostanzialmente appartiene agli anni più acuti della crisi. Cosa aspettarsi per il futuro dunque? È molto probabile che anche le ristrutturazioni del lavoro siano il segno di fabbriche che stanno entrando a pieno titolo nell'epoca del 4.0. Questo naturalmente comporta la ricerca di competenze professionali sempre più qualificate. Le organizzazioni sindacali mirano perciò la costruzione di una piattaforma unificante di tutto il comparto. Noi riteniamo che questa trasformazione importante vada gestita, vada affrontata insieme con una regia del territorio in modo tale da dare opportunità maggiori ai lavoratori e alle aziende ma soprattutto perché il nostro mestiere è tutelare e dare copertura alle persone che rischiano di andare in difficoltà in questa situazione. Fra le varie proposte fondamentale è il ruolo riservato alla formazione. La prima cosa è la costituzione di una scuola professionale specifica per quanto riguarda il settore dell'occhialeria. La seconda questione è un'attenzione particolare in un momento di trasformazione non sempre positiva a quegli ammortizzatori che ci rimangono.